Solo il 10% di chi arriva in Italia ottiene lo status del rifugiato, il restante 90% lascia il paese di origine per motivi economici, con numeri in costante aumento che obbligheranno l'Europa a ripensare integralmente la politica dei flussi. Parola del ministro dell'Interno Piantedosi che in un'intervista al Quotidiano Libero anticipa il piano del governo per gestire l'emergenza e migrazione, guardando sia all'immediato che a lungo periodo, dice il titolare del Viminale, perché i semi gettati da Palazzo Chigi daranno frutti nel tempo. Il riferimento è agli accordi stretti con gli stati di partenza dei migranti, ultimo in ordine di tempo, quello tra Unione Europea e Tunisia, mediato dalla Premier Meloni, che si tradurrà in un blocco navale davanti a quelle coste. Un lavoro diplomatico sottolinea Piantedosi da rafforzare a livello europeo. Bruxelles deve intervenire economicamente per promuovere il più possibile lo sviluppo in quelle terre, conferma il Vice Premier Salvini. Ma è all'oggi che il governo guarda con la massima attenzione. Siamo pronti ad allestire un centro di accoglienza in ogni regione, spiega Piantedosi, per alleggerire il peso che grava solo su alcuni. E poi, semplificazione delle procedure di rimpatro e più polizia per il controllo dei territori, come invocato dai sindaci. E' ancora un piano speciale per i minori non accompagnati. Per loro massima tutela, ma va cambiata la legge Zampa, che carica di tutte le responsabilità le amministrazioni locali. La priorità resta salvare vite in mare, conclude Piantedosi. Ad oggi, sulle 76.000 persone tratte in salvo, solo 5.000 sono state imbarcate dall'ONG. Questo vuol dire che lo Stato c'è. Piantedosi. Pianto.